Ragazzi, fermi tutti, fermi tutti Ha segnato, ha segnato Cengizio Under Cioè, incredibile Under è tornato al gol, ma ci rendiamo ragazzi Cioè, siamo riusciti No Cioè, dal momento in cui Pablo Giallorosso fa uscire una parodia intitolata Non vinciamo più Che succede? Che la Roma addirittura vince contro il Ghent E segna Under Mamma mia, stavo malissimo È tornato, no senso Vabbè, a parte gli scherzi La Roma vince 4-0 ed è una risposta positiva, no? Visto l'ultimo periodo Non vinciamo, penso dagli anni Boh, non lo so, quando forse io ero ancora un giovane ventenne Sapete, ormai ho 95 anni Per chi non lo sa adesso lo sa Che dire, follettine e follettine Che sento qualcuno ridere La Roma ha giocato bene Ha giocato contro il Lecce Quindi non è che bisogna entusiasmarsi chissà quanto Però sicuramente abbiamo avuto delle risposte da giocatori come Under che appunto ritrova il gol Come anche Mkhitaryan Che se non ero ha fatto anche un assist Oltre a segnare da Dzeko Che ripeto, oltre anche lui a segnare Fa anche l'assist Dzeko che è il capitano di questa Roma Mi fa strano dire Dzeko è il capitano di questa Roma Perché ormai ero abituato ad altro Nulla a togliere ovviamente al mio grandissimo cigno di Sarajevo Però è incredibile quanto sia davvero fondamentale Questo giocatore per la Roma L'abbiamo visto anche contro il Ghent Nelle azioni che vi ho elencato poi nel postpartire di quella sera Dzeko è un giocatore imprescindibile per questa squadra Fonseca che ha ridato minutaggio a Pellegrini Nonostante nell'ultima uscita sia apparso sotto tono Oggi non è che secondo me ha fatto chissà che partitone Però comunque sia Però comunque sia Sicuramente è stato stupido fischiare Fischiarlo Perché dico questo? Perché è un giocatore che ha bisogno di fiducia Un giocatore che fino a due mesi fa lo sannavamo Perché sta giocando male Uno deve bersagliare dei fischi Per me è una cosa stupida Ve lo dico proprio tranquillamente Papale papale Per me è stupido fischiare Pellegrini Nonostante sta giocando male Corvo che segna il novantesimo Quindi io al fantacalcio godo come un riccio Perché ossia Mkhitaryan Che è anche il grande Kolarov Che nonostante anche lui in conferenza stampa Fonseca ha parlato Dell'importanza di avere un Kolarov in campo Anche se onestamente ribadisco Come quest'anno non mi sta convincendo Sì sta segnando tanto Però in fase di ripensiva lascia un po' desiderare Però oggi Oggi è andata bene Diciamo è andata bene Sì è andata bene Tre punti fondamentali Hanno bloccato mezzo campionato a causa del coronavirus Quindi poi tutti i vari calcoli di ristacco Differenza Li faremo poi più avanti Quando si deciderà di Di ricoprire queste partite Oggi ho avuto una risposta positiva Dalla parte della squadra Così come è stata giovedì Nonostante la prestazione vergognosa Abbiamo vinto E quindi questo ha dato sicuramente morale Per affrontare poi questa sfida Che ripeto Abbiamo affrontato il Lecce in casa Quindi con tutto il rispetto Sì sicuramente la sfida ostica Però anche a Lecce mancano i giocatori Però per dire ragazzi Non è che mi voglio casare Per la vittoria con Lecce Seppur si è arrivata Alla fine anche con tanti gol di scarto Quindi è fondamentale anche il fatto Che la Roma Si sia tra virgolette Sibloccata in fase realizzativa Ma vediamo di dare continuità A questa striscia positiva Perché è facile tornare tutti felici e contenti Dopo due vittorie Una in Europa League E una in campionato con il Lecce Vediamo Lavoriamo Ci sono ancora tante cose Da dover migliorare Oggi ho visto anche Molte sbavature Nonostante la buona prestazione Che poi è colmata nella vittoria Quindi penso che questo video Posta finire qui Lascio un like Commento Iscrivetevi Da Pablo Giotto Rosso è tutto Adios Il mio occhiolino liscio Vi saluta